benvenuti nel mio canale di make up e skin care no dai torno seria in realtà mi piace molto vedere i video sul make up ragazze che si truccano la skin care e qualche volta segue il consigli però sono più le volte che non li metto in pratica è un po ripeto si vede già dalla ricrescita no assolutamente stasera devo fare devo fare la ricrescita assolutamente quindi vi dicevo che c'entra il make up oggi perché ecco ogni tanto io o qualcosina la faccio mi trucco quando magari ho più tempo da gestire o qualche magari occasione più importante mi piace un po truccarmi però in linea di massima sono acqua e sapone ma perché siamo qui a parlare di make up non lo so nemmeno io hanno mi ero un attimino persa ecco qua guardate cos'è questo si capisce benissimo questi sono i contenitori che danno i bar in linea di massima anche se magari non sono tutti uguali però questo è quello che da non si è visto già si è visto comunque dicevo questi sono i contenitori da asporto per il caffè guardate è di solito li danno i bar dicevo quando uno porta via il caffè ma una volta utilizzato il caffè che questi di solito sono puliti belli intatti ma si possono mai cestinare cioè non possiamo cestinare una cosa così guardate c'è tanta plastica c'è tanto lavoro c'è tanta perfezione qua guardate i dettagli ma uno beve il caffè e lo deve cestinare ma assolutamente no a casa mia non funziona così quindi che cosa ho fatto e qui mi collego al make up queste l'ho imparato dai video sono le beauty blender si dice così ogni tanto le utilizzo anch'io infatti vedete un po logorata perché utilizzata e mi serviva un contenitore per queste spugnette perché ne avevo un paio guardate quindi quale modo migliore di conservare queste due spugnette in questo contenitore del caffè guardate giuste giuste e dite va bene è riutilizzato e non cestinato questo contenitore bellissimo io sono contentissima anche se vi dirò ho un porta beauty blender guardate a forma di uovo in effetti ho visto alcune che hanno conservato le beauty blender nelle cartoni delle uova hanno riutilizzato quelle ognuno e niente bene adesso vi lascio finisco il mio caffè questo qui ai capelli come i miei somiglia un po a me va bene ok vi lascio sul serio buon sabato e se siete creative e imperfette come me seguitemi per altri consigli buon sabato e se siete davanti